Ciao Leon, come sei? Ok Che cosa riguarda la tua finale? Sei felice? Come è stato? Difficulto? Ehm... È stato difficile una corrida? O una corrida facile? Ehm... Sì Vuoi dire grazie a qualcuno? Ehm... Grazie La mia squadra Ehm... Il tuo padre La tua famiglia Il tuo padre, la tua famiglia La tua mamma Il sponso Il sponso Il sponso Anche il T-Cart, diciamo grazie a T-Cart Grazie a T-Cart Grazie a T-Cart Grazie